... osserva sto costruendo eh a b e... se legge dovete avere risposta a fronte a destra a sinistra si perchè? perchè c'ho bisogno poi di fare l'ea sotto l'ea praticamente prende l'indirizzo che scoppia come il nome cx cioè di bx più 8 e lo metti in bx quindi ora dentro i bx ci sta soltanto dentro l'indirizzo